Illustrato in quinta commissione, Presidente Vincenzo Martinez, presente l'assessore Paolo Panontini la proposta di legge del portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale che punta ad introdurre norme non solo per il contrasto, ma anche per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso. Al termine dell'illustrazione, il consigliere Igor Gabrovec ha annunciato l'aggiunta della sua firma al testo, ad accompagnare il progetto di legge e il riferimento alla situazione descritta nella relazione della Direzione Nazionale Antimafia per quanto riguarda la nostra regione, in cui il territorio, in virtù della particolare posizione geografica, sta diventando sempre più oggetto di interessi da parte di gruppi familiari residenti sul territorio e collegati al crimine organizzato, per cui le infiltrazioni mafiose non trovano forme evidenti e clamorose di manifestazione se si accentuano sporadici episodi estorsivi, ma si traducono nella partecipazione societaria o nel finanziamento di imprese, oltre che nel settore degli appalti pubblici. Una situazione che sta toccando livelli di oggettivo allarme, confermata dai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre 2014. Riferimenti che ai 5 Stelle fanno dire che le istituzioni regionali, le parti sociali e l'intera comunità regionale sono pertanto chiamate a svolgere la propria parte ad assumersi le proprie responsabilità in una sfida che riguarda tutti di maniera trasversale. Così, se è vero che nel nostro territorio non sono presenti fenomeni radicati come le altre regioni per i consiglieri Movimenti 5 Stelle, è obbligatorio fronteggiare quello che la Direzione Nazionale definisce come un crescente grado di pericolosità dei fenomeni criminali legati alle organizzazioni anche di tipo mafioso ed evitare ogni possibile espansione. Sempre più regioni hanno approntato a misure strumenti normativi necessari per organizzare un presidio a sorveglianza dei fenomeni riguardanti la criminalità organizzata, di stampo mafioso e di diversi consigli regionali. Hanno istituito commissioni antimiafa al proprio interno o si sono dotati di uno specifico osservatorio, ha sottolineato Cristian Sergo, prima un firmatario rivelevando che in questo siamo una delle ultime regioni. Illustrando l'ossatura della proposta che si compone di 15 articoli, Sergo ha proposto l'accento sui punti qualificanti quali l'istituzione dell'osservatorio regionale antimafia in luogo dell'attuazione osservatorio della sicurezza integrata previsto dalla legge regionale 9 del 2009 sulle azioni e gli interventi di prevenzione e contrasto previsti in diversi campi, sull'audizione di un codice etico dei consiglieri regionali e la possibilità per la regione di costituirsi in giudizio. Nel dettaglio all'articolo 1, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, si prevede l'estensione dell'impiego di risorse per la progettazione di interventi di prevenzione ai comportamenti antisociali e criminosi perpetrati dalla criminalità organizzata. Auspicata dal Presidente della Quinta Commissione, Martinez, la massima partecipazione per l'approfondimento del testo condivisa dall'assessore Panontin, che parlando dell'impegno in corso da parte dell'esecutivo per modificare la legge 9 del 2009, ha indicato l'importanza di un lavoro di integrazione sulla base di queste osservazioni, è stato deciso di calendarizzare una serie di audizioni per il più ampio e argomentato approfondimento della materia.